Una dolce sorpresa per l'ospedale del Ponte di Varese che ha ricevuto una consegna speciale. L'atmosfera di Natale ha pervaso il reparto di pediatria al quinto piano del padiglione Michelangelo grazie a un dono degli studenti dell'ENAIP di Busto Arsizio. Durante questo periodo natalizio, dopo aver realizzato un presepe interamente a mano con il loro pasticcere nelle ore tecniche professionali, hanno pensato di regalarlo ai bambini che non possono passare il Natale a casa e quindi abbiamo individuato l'ospedale del Ponte. Al suo arrivo il reparto, il maxipresepe lungo 1,50 m ha subito affascinato volontari, personale sanitario e ovviamente piccoli pazienti. Ma non è l'unico dolce natalizio recapitato in ospedale. Ci sono anche un albero di Natale di 45 cm realizzato con cioccolato e ghiaccia reale e un babbo natale di zucchero. Il nostro obiettivo è quello di formare appunto i ragazzi e di creare qualcosa anche di bello. In questa occasione del Natale era proprio l'occasione giusta per creare una struttura, una realizzazione molto importante come un presepe in cioccolato, tutto intagliato a mano. Quanto lavoro ha richiesto? Allora abbiamo fatto settimane di lavoro, abbiamo consumato un 15-20 kg di cioccolato fondente più un'altra decina di kg di zucchero per fare la ghiaccia. Al fianco di Enaip il nucleo mobile pronto intervento della protezione civile che si è occupato del trasporto eccezionale a bordo di un furgoncino. Sono eccezionali tutti i trasporti che ci consentono di portare solidarietà, in questo caso all'ospedale del Ponte dove abbiamo recapitato un presepe natalizio fatto dagli studenti del corso di pasticceria e panificio della sede Enaip di Busto con la quale collaboriamo anche a Varese in progetti diversi con gli studenti.